Assessore Bolzonello, oggi un forse piccolo ma significativo tassello riguardante le produzioni agricole della regione e soprattutto le certificazioni di qualità dei nostri prodotti agricoli. Beh sì, oggi abbiamo recepito il decreto del direttore dell'ERSA rispetto al protocollo che riguarda il marchio ACQUA, che è il marchio della regione per il marchio di garanzia, di qualità, che riguarda la parte relativa alle patate, alla produzione di questo importante prodotto della nostra terra. In generale stiamo spingendo molto sul marchio ACQUA, che è il marchio del Friuli Venezia Giulia. Vorremmo che sempre più prodotti del Friuli Venezia Giulia siano marchiati ACQUA e che siano presenti nei nostri scaffali, nei scaffali della nostra distribuzione commerciale. Questo a significare la qualità del prodotto made in Friuli Venezia Giulia e anche la possibilità con questo marchio di dare valore aggiunto alle produzioni dei nostri agricoltori. C'è spazio secondo lei per i prodotti marchiati ACQUA per un export? Sì, assolutamente sì, però sempre di più c'è spazio per marchi, fra virgolette, locali in un mondo invece globale. Sono quelle nicchie che permettono di avere quel valore aggiunto di tipo commerciale assolutamente importanti. Ricordiamoci sempre però che dobbiamo dare il valore aggiunto per i nostri agricoltori, perché se il valore aggiunto resta solo sulla fase commerciale, purtroppo soffrono i nostri agricoltori. Quindi anche su quello dobbiamo cercare di mettere assieme le due cose. Grazie. Grazie.